Benvenuti a Matteo Giulianci.it. Dopodomani lunedì 27 maggio, bel tempo su tutta l'Italia per l'allontanamento della perturbazione giunta venerdì al nord. Ma ecco la mappa del satellite virtuale, vedete poche nuvole al sud, sereno su gran parte dell'Italia. Che tempo allora farà dopodomani, questa è la situazione prevista al mattino, bello e soleggiato quasi ovunque eccetto qualche nuvola sul nord della Sardegna. Il tempo previsto per il pomeriggio, qualche nuvola al sud, qualche nuvola sulle regioni di nord-est, qualche piovasco sul Trentino, Alto Adige, Bellunese, Veronese, Alpi Marittime. Per quanto riguarda le temperature massime queste saranno ovunque in rialzo tra 1 e 3 gradi e su valori compresi tra 22 e 26 gradi. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora buongiorno.